Sì, noi siamo nel quartiere Ferrovia di Conselice, che è il quartiere più colpito. Sullo sfondo sembra di essere davanti al mare, questo è un torrente e quello sembrerebbe il mare. In realtà sono dei campi e queste sono delle case che insistono su una delle strade più colpite. Vedete acqua di stagna qui da una settimana, acqua scura, maleodorante e i rischi sono legati proprio a questo, a possibili sviluppi di malattie dovuti a questo ristagno di acqua. Proprio mentre vi parliamo sta per iniziare in comune la conferenza stampa con il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa. Prima di entrare il prefetto ci ha detto che dobbiamo prendere decisioni importanti, capire se il rischio sanitario è reale, è pressante. In quel caso dobbiamo sgomberare tutti. Sappiamo che 500 persone sono ancora nelle loro abitazioni. Il rischio è legato al tetano. Domani qui partirà una campagna straordinaria di vaccinazione contro il tetano e dunque bisogna scongiurare i rischi per la salute delle persone. Roma.